Dopo il grande successo dell'ultima edizione che si è tenuta dall'1 al 5 agosto scorso, il mercatino del gusto di maglie si trasforma in un mercatino di idee in attesa della quindicesima edizione, avvia un programma di incontri e workshop tematici insieme ai produttori ed espositori per migliorare ulteriormente la formula di una manifestazione che anche quest'anno ha visto un aumento di presenza del pubblico. Presso tenuta Luca Giovanni a maglie, un workshop dal titolo Comunicare, produrre e narrare il vino, nuovi scenari e nuove idee per comunicare ed intercettare il futuro. Una sorta di prodotto sistema attraverso il quale riflettere per individuare spunti, contaminazioni, esperienze innovative che a partire dallo scenario del mercatino del gusto di maglie possano prefigurare un futuro possibile basato su progetti concreti, innovativi e complessivamente sostenibili. Il vino è storicamente un prodotto che da un punto di vista strategico è sempre stato un po' all'avanguardia nell'individuare trend, tendenze e applicazioni dentro le diverse realtà. Quello che oggi vorremmo fare è appunto utilizzare il vino come strumento per riflettere e per incominciare, sottolineo questa parola, un percorso che ci permetta di capire come sempre di più il racconto, la narrazione di una materia prima, di un prodotto e di un territorio debba essere arricchito di elaborazioni nuove, di spunti nuove, di idee. Stanno cambiando i linguaggi, stanno cambiando gli approcci dei consumattori al consumo dei prodotti e di conseguenza io credo debba cambiare pur nella tradizione anche il modo di raccontare il vino stesso. Io dico sempre che il mercatino del gusto di maglie ha avuto l'originalità di individuare un modo originale di raccontare una storia degli artigiani e dei produttori che gli ruotano attorno, ma di saper legare la qualità dei prodotti alla domanda di un consumatore esperto ma anche del consumatore dilettante. Il mercatino del gusto è diventato un'offerta popolare e non populistica, ma al tempo stesso non è scaduto nella classica sagra. Questa proposta perché sentiamo l'esigenza di dover guardare al futuro e quindi di rimodulare alcune parti del mercatino proprio perché il mercatino nel tempo non perde il suo appeal. Si parte dal vino perché il successo di pubblico avuto dal mercatino indirettamente ha portato troppa gente nella piazza del vino, quindi bisogna per puntare ancora più in alto nella qualità rimodulare quella che sarà la piazza del vino o come noi veicoleremo il vino all'interno del mercatino. Lavoriamo dal giorno dopo sulla quindicesima edizione.